Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, io sono Mr. Warren e oggi siamo tornati su Minecraft ma ragazzi non è proprio una puntata dove faccio una cosa normale ho scaricato una mappa di Minecraft e ho deciso di farci una specie di animazione una specie di film tipo, sapete il viaggio al centro della terra? tipo quello, solo in prima persona tastagne, va bene ragazzi, godetevi il video ah, sono arrivato qui in questa città sperduta qui c'è di una certa crew e invece di una specie, sempre quella crew e invece qui parla di un capitano e qui invece dei rifornimenti ma io non vedo nessuno qui questa storia è molto strana qui c'è tutta questa roba che non mi serve tanto ma dove saranno finiti tutti? ma non voglio di andare a controllare quella deve essere la grandissima piramide devo andare ad... oh, bella questa devo andare ad esplorarla devo andare ad esplorarla devo andare ad esplorarla eh, d'accordo ma qui come si fa? magari usando la pala oh, si è aperta una via molto interessante ma qui non c'è nessuno oh, c'è un cartello dei terrori si celano qui dentro voglio scoprire quali saranno questi terrori va bene qui dentro è un po' cupo ma non c'è niente qui eh? oh, una stanza segreta dove mi porterà? anche perché tutte queste cose... no! oh no! via, 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 via non sono molto rassicuranti eh? qui c'è una porta mmm, sono sempre meno convinto di quello che sta per succedere eppure mi sento osservato mi sento molto osservato perlomeno però... eh? mmm sei veramente convinto che sia così facile? tutto questo è molto strano oh, 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 oh troppo strano e anche troppo pericoloso ma se voglio arrivare al tesoro perduto ce la devo fare forza! ah, bravo ok forza! ok ce l'ho fatta ah che sollievo e ora e ora ah ah sì ce l'ho fatta di nuovo sì ah tutto questo è molto strano perché della lava dolce e della sabbia ah gli antichi agizzi ce l'avranno messa mmm comunque è molto pericoloso e non so neanche come uscire nota sì ce l'ho fatta ok cosa si celera qui dentro tutto questo no ah aiuto 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 devo uscire devo uscire ah che stavo dicendo tutto questo non mi fa pensare a niente di buono eh sono molto preoccupato ehi delle scale ma è tutto caccolato mmm tutto molto sano tutto troppo facile qui c'è una scalinata dove mi porterà non lo so non lo so aiuto questa mi sembra una grande porta dove mi porterà oh 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 siamo avanti sì sì non ci credo non ci credo non ci credo oh 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 i miei grandi luccicosi ah 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 sì qui oh mio dio dio oh 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 troppo forte spero proprio di trovare dei eccoli qui quello che cercavo ma adesso non posso prenderli devo prima finire di esplorare e poi potrò iniziare a prendere tutto eh ma perché lì c'è dell'acqua ah visto che con l'acqua si può fare tutto allora posso arrivare in cima sono arrivato qua sopra devo andare avanti sono tutto bagnato e sono anche scivato molto bene dai su su no vai su vai su vai su su forza muoviti non ce la posso fare sì devo continuare così oh 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 stavo per cadere oh mamma che vita spericolata la mia mi chiedo proprio cosa ci sia lì sopra oh oh ma cosa no devo tornare lì sopra non capisco cosa stia succedendo oh no wow wow meno male che c'era l'acqua che mi ha salvato d'accordo posso iniziare a scavare e posso dire che ci metterò davvero poco tipo uno due e tre oh ho ripulito veramente tutto a parte quel brocco ci sarebbe uscita dell'acqua da lì e ho dovuto sacrificarlo però tutto il resto l'ho fuso in lingotti d'oro e tantissimi diamanti d'accordo per dire che ho ripulito tutto ho ripulito davvero tutto beh direi che posso tornare indietro ah come sto bene adesso adesso sto davvero ops cavolo e ora basta fare così ops ho sbagliato ok ce l'ho fatta ora mi basta solo salire e il gioco è fatto ora mi basta soltanto uscire e poi mi godrò tutti i diamanti e l'oro oh oh questo me l'ero davvero dimenticato ah non so come fare sto davvero oh oh stavo per cadere grazie soffitto ok piano piano oh 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 stavo cadendo nooo via via a fuoco a fuoco a fuoco aiuto 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 vado a fuoco vado a fuoco aiuto oh non vado più a fuoco meglio d'accordo oh non ho letto questi cartelli cosa ci sarebbe qui io non ci vedo niente di buono ma se ci fossero altri diamanti ho la tentazione ma d'accordo eh mmm ehi no 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 oh ah dopo tutto questa è la vita come sono nato dopo essere morto sono stato messo al mondo ma adesso sicuramente mi ritroverò a casa mia e tutto sarà finito dopo avrò una casa piena di diamanti e no va bene ragazzi questa era l'animazione barra filmino barra episodio di minecraft che volevo farvi vedere se il video vi è piaciuto lasciate un commento di un vi piace qua sotto commentate iscrivetevi noi ci vediamo un prossimo video ciao castagne ragazzi ciao